Veglia su te stesso e sul popolo di Dio e servilo come ha fatto Gesù. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto a Monsignor Fabio Fabene, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi e ordinato Vescovo venerdì pomeriggio nella Basilica di San Pietro. Pronunciando l'omelia prevista nel pontificale romano, il Pontefice ha aggiunto delle riflessioni personali sul ministero episcopale che perpetua quello apostolico e rinnova la presenza del Cristo stesso. Sei stato letto dal greggio e ha ricordato Papa Francesco al nuovo Vescovo che mai vanità, l'orgoglio e superbia vengano. Sei stato letto, costituito per gli uomini, che sempre il tuo atteggiamento sia di servizio, come Gesù. E poi lo ha invitato a vegliare, ad essere attento per difendere se stesso da tanti peccati e da tanti atteggiamenti mondani e per difendere il popolo di Dio dai lupi. Vegliare e pregare per il popolo, come faceva Mosè, con le mani in alto, quella preghiera di intercessione, quella preghiera coraggiosa faccia a faccia con il Signore per il popolo. Grazie.